Salve ragazzi e bentornati. Io sono Jarel e oggi parleremo di REXAR. Che ne dite? Cominciamo. Rexxar è stato uno dei pochi guerrieri orcheschi nati dall'unione tra orchi e ogre. Originariamente faceva parte del clan pacifista dei Mok Natal ed è cresciuto sotto la guida del padre, l'Eaurox. Ma proprio la natura pacifista della sua gente non gli diede alcun motivo per rimanere e contro la volontà del padre si unì all'orda e attraversò il portale oscuro verso Azeroth. Il maestro delle bestie fu accompagnato in questo viaggio da un grande lupo, Arata, il suo fedele compagno da sempre. Dopo la sconfitta dell'orda nella seconda guerra, Rexxar decise di tornare brevemente a Draenor per visitare ancora una volta la sua gente e raccontare del mondo oltre il portale che aveva visto con i suoi occhi. Mentre si trovava con Grommash malogrito davanti all'entrata del portale però, esso venne distrutto per la seconda volta, provocando la distruzione stessa di Draenor. Disgustato dalla voglia insensata di uccidere, che sembrava pervadere la razza degli orchi, prese la decisione di lasciare l'orda, decisione che venne confermata con la morte di Arata. Il lupo si contrappose tra il suo padrone e uno stregone che voleva ucciderlo, sacrificandosi per l'incolumità di Rexxar. Egli uccise lo stregone, ma ormai aveva perso il suo compagno. Dopo quel giorno, dichiarò che si sarebbe fidato solo delle bestie, lasciò l'orda e iniziò a vagare in quel mondo dove ormai era bloccato. Durante i suoi viaggi nella natura incontaminata, incontrò un nuovo alleato, un orso di nome Misha, che sarebbe stato sempre al suo fianco da quel momento in poi. Insieme, si diressero verso Kalimdor, lontano da qualsiasi forma di civilizzazione. Da molti anni vago senza alcuna compagnia, piccola Misha. Eppure a volte persino io mi stanco di questa infinita solitudine. Ho osservato le altre razze. Sono stato testimone dei loro alterchi, della loro spietatezza. Le loro guerre non fanno altro che sfregiare la terra e spingere le creature selvagge verso l'estinzione. No, non possiamo fidarci di loro. Solo le bestie sono al di sopra dell'inganno. Una battaglia! Fatevi sotto, bastardi! Venite ad assaggiare l'acciaio dell'Ascia di Mogrin! Resisti, straniero! Combatterò al tuo fianco! Maledetti codardi! Ti hanno lacerato lo stomaco. Poco posso fare per alleviare la tua sofferenza. Lo so, sarebbe una bella morte se non fosse per il mio fallimento. Fallimento? Dovevo consegnare un rapporto di importanza vitale al mio capo nelle terre qui sotto, ma ora sono venuto meno al mio dovere. Ho perduto il mio onore. Consegnerò quel messaggio, vecchio. Per rispetto al tuo onore porterò io stesso a termine il tuo incarico. A Kamagosh, guerriero. Grazie. Cerca la città di Orgrimmar. Trova il capo Tral. Digli... Oh... Possano i venti condurti rapidamente dai tuoi antenati, guerriero. Bene, Misha. A quanto pare rivedremo la civiltà, dopo tutto. Mettiamoci in cammino. Una città guerriera. Sono anni che non ne vedevo una. Restami vicina, Misha. Puntellate quei supporti. Quando le bore taglienti riprenderanno a soffiare, quei tetti voleranno via come fuscelli. Sì, capo. Un momento, capo. Sono qui per consegnare un messaggio. Come hai avuto questo rapporto? Dove è Mogrin? È caduto nella foresta. Il suo ultimo desiderio è stato che tu ricevessi questo messaggio. Chi sei, guerriero? Sono Rexar. L'ultimo superstite della stirpe dei Moknatal. Rexar afferma di essere l'ultimo dei Moknatal, ma soltanto perché si trovava dalla parte del portale sbagliata. Infatti, non è veramente l'ultimo superstite, ma questa è un'altra storia. Moknatal, ho udito leggende sul tuo popolo. Si dice che nelle sue vene scorresse sangue misto di orco e di ogre. È un onore. Abbiamo fondato questo regno, Durotar, per i nostri simili. Rexar, Durotar è la tua casa, così com'è la mia. Resta un poco. Accetta l'ospitalità che possiamo offrirti. È il minimo che possiamo fare. Forse ho trascorso troppo tempo nella foresta. La tua offerta è gentile, Trann. Ma è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Mostrami quello che c'è da fare e mi guadagnerò il pane. Capisco. Fondare una nazione è un'impresa faticosa e qui intorno ci sono parecchie persone che potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. Parla con loro, ti sapranno indicare la via giusta. Questo è Rokan, della tribù Darkspear. È uno dei miei migliori esploratori. Ehi, amico, come va? Ah, Tromkar, Rexar. Mi dicono che sei stato di grande aiuto ai miei ragazzi. Apprezza tutto quello che hai fatto per noi. Tromkar, Rexar. Ho parlato a Tral degli umani che hanno sconfinato nelle nostre terre. Non so tu, ma io non mi fido per niente di loro. Vorrei che ti recassi al nostro posto di guardia esterno e ti incontrassi con il mio luogotenente, Gartok. Ho bisogno di sapere se lui e i suoi uomini hanno rilevato attività sospette lungo la frontiera. Ora potrò attivare il telescopio e ispezionare le terre circostanti. Maledizione! Sembra l'inizio di un'invasione. Sono troppi. Non posso occuparmene da solo. Sei certo di quel che hai visto, Rexar? Mi risulta difficile credere che Jaina abbia inviato delle truppe così vicino alla nostra frontiera. Questa faccenda non promette bene. Patto o non patto, non permetterò che la sicurezza della nostra nazione venga messa a repentaglio. Jaina e Tral, quando si incontrarono a casa di Mediv, strinsero un patto non ufficiale per cessare le ostilità tra orchi umani. Ma per il capoguerra la sua gente rimaneva la priorità assoluta. Preferirei che gli umani restassero illesi. Ma se mai dovessero rivelarsi ostili ad ogni costo, vi accordo il permesso di trucidarli. No, siamo arrivati troppo tardi. L'accampamento è già stato raso al suolo. Ci sono tracce di umani dappertutto. Tornano indietro verso la costa. La feccia umana la pagherà cara. Sangue per sangue. Vita per vita. L'Octaro Gar. Quest'ancora che campeggia sui loro scudi. Hai mai visto questo emblema prima d'ora? Orchi, siamo stati seguiti. Alle armi, uomini. Alle armi. Fatevi sotto, bastardi umani. Assaggiate la furia dell'orda. Pervasi completamente dalla rabbia, Rex e i suoi alleati fecero una strage. Il sangue degli umani era ovunque e il piccolo accampamento sulla costa fu distrutto. Ma non erano semplici soldati in avanscoperta. Quel simbolo, infatti, era già molto familiare al capoguerra. Avete fatto tutto il possibile, guerrieri. Soprattutto siete riusciti a tutelare la sicurezza di Durotar. Questo sigillo a forma di ancora che descrivete mi sembra stranamente familiare, ma non riesco a ricordare dove l'ho visto. Scusa, capo, ma se è vero che gli umani arrivano dal mare, allora anche la mia tribù sulle isole Echo rischia di trovarsi in guai grossi. Non preoccuparti, Rokan. Hai la mia parola. Non permetterò che al tuo popolo sia fatto del male. Ho una missione urgente da affidarti, Rexar. Quella flotta degli umani pone una seria minaccia ai troll che vivono sulle isole Echo. Voglio che tu ti rechi lì a bordo di uno Zeppelin e avverta i troll di quello che sta succedendo. Se puoi, cerca di convincerli a raggiungerci sulla terraferma. Ah, salve amico mio. Sono Chen Stormstout, umile brewmaster di Pandaria. Ho viaggiato in lungo e in largo per il vasto mondo alla ricerca di ingredienti rari ed esotici da usare nelle mie bevande speciali. Dopotutto una buona birra può risolvere tutti i problemi di questo mondo, non credi? Senti un po', se non hai niente da fare potresti darmi una mano a trovare alcuni ingredienti speciali per la mia nuova bevanda. Se riesci a trovare gli oggetti di questo elenco e a portarmeli, ti farò assaggiare il mio capolavoro. Perfetto, perfetto! Proprio quello che ci voleva. Tieni, assaggia la mia ultima creazione. Cosa diamine è questa robaccia? Stai cercando di uccidermi? Beh, forse ha bisogno ancora di qualche ritocco. Dopotutto, prima si impara a camminare e poi a correre, no? Bene, ora che la mia bevanda è pronta, potrò esplorare più a fondo questa terra aspra e bizzarra. Ti dispiace se mi unisco a te, guerriero? Niente affatto, Chen, ma il mio sentiero è irto di pericoli. Amico mio, ho scoperto che nessun sentiero è troppo pericoloso se lo si innaffia con una bella bevuta. Andiamo!